Non è la soluzione migliore arare il campo nel tardo autunno, quando il terreno gelato forma una crosta che quando è spessa impedisce il lavoro a qualsiasi mezzo. Oggi la crosta ha pochi centimetri di spessore, perché il gelo è iniziato da poco. Infidiamo anche nelle capacità del trattorino per il nome che non è il terreno. Grazie a tutti. La rattura è terminata e il lavoro del Valiant è stato ottimo. A dispetto della crosta gelata, spessa in vari punti più di 5 centimetri. Ancora qualche giorno il gelo arriva più profondo e nel campo arato scioglie e disintegra le tolle.